Il primo atto che il Movimento 5 Stelle ha fatto con il nuovo capo politico Giuseppe Conte è presentare un emendamento al Senato per garantire la continuità produttiva dell'ILVA di Taranto, 700 milioni di euro. Notoriamente lo stabilimento crea eventi di malattie e morte ed è per questo non solo sotto sequestro ma anche confiscato. Vede, Presidente, questa non è nient'altro che l'ultima beffa che si fa dell'ambiente e della salute delle persone perché dopo aver votato per gli inceneritori, per bruciare i rifiuti, norme di favore per le trivellazioni siamo arrivati a questo punto di dare soldi a un'industria che crea eventi di malattie e morte ma adesso con il capitale sociale che sarà per maggioranza pubblica le perdite economiche si le accollerà lo Stato, i cittadini. Doppio danno. E dovevamo fare altro. Si doveva chiudere quell'aria a caldo come è stato fatto a Trieste e a Genova. Si doveva fare un piano di riconversione economica. Tuttavia tutto questo non è stato fatto. E ci sono delle responsabilità ben precise. Ricordo bene il ministro Patuanelli, l'ex ministro Patuanelli dello sviluppo economico che a noi diceva sono d'accordo con la chiusura dell'aria a caldo, lavoriamo per questo e poi nel frattempo se n'è andato dietro invece il Partito Democratico che proponeva invece la continuità produttiva. Questa è realtà. Lo sanno bene i colleghi di questa situazione. Vede, Presidente, quello che fa più rabbia è il fatto di essere arrivati vicino a risolvere un problema che riguarda la salute, l'ambiente e lo sviluppo del nostro Paese e invece di aver fatto esattamente come tutti gli altri, nonostante tutto il lavoro che abbiamo fatto, il sudore, il sangue che ci abbiamo buttato. E per questo motivo io non posso ovviamente avallare questo provvedimento decreto su Venezia che in realtà cela 700 milioni di euro da dare all'Ilva e per questo io non solo annuncio il mio voto contrario ma contestualmente annuncio anche l'uscita dal gruppo del Movimento 5 Stelle.